La Fiamme CGL Abruzzo e Molise invoca un coordinamento fra le due regioni per non farsi trovare impreparate alla riapertura delle attività produttive che, salvo proroghe, è prevista per il 4 di maggio. Il sindacato ha scritto una lettera aperta ai due presidenti di regione, Marco Marsilio e Donato Toma, affinché appunto ci sia un coordinamento che, salve le prerogative del governo sulla decisione della ripartenza, possa mettere in atto le giuste strategie per evitare che ci siano problemi alla riapertura delle attività produttive. Le due regioni vengono da un lungo periodo di commissariamento nella sanità, terminato per la regione Abruzzo, mentre ancora in essere per la regione Molise. Poi c'è una geografia che è fatta da tanti piccoli centri, da dove ogni giorno partono e tornano migliaia di lavoratori, che pone il tema dei trasporti. Ci sono grandi industrie, a partire dalla Sevel in Abruzzo oppure dallo stabilimento FCA di Termoli per la regione Molise. È dunque necessario, secondo la FIOMCGL, che le due regioni si seggano allo stesso tavolo per coordinare gli interventi. Una ripartenza che non tenga conto di tutte le variabili, dice la FIOMCGL, rischia di vanificare tutti gli sforzi e sacrifici fatti fino ad ora dalla popolazione e dalla sanità che sta cercando di combattere il virus. Riteniamo altresì importante che tutto quanto questo debba avvenire attraverso una programmazione precisa da parte degli enti, soprattutto per quanto riguarda il sistema dei trasporti. Immaginate che solo la riapertura della Sevel e della FCA di Termoli coinvolgerà circa 18.000 persone. Immaginate quindi che significa questo. Significa un coinvolgimento di una massa di popolazione enorme per le nostre due regioni. E immaginiamo anche soprattutto che cosa può dire garantire il servizio pubblico alle persone che dovranno raggiungere il posto di lavoro. Sappiamo che questo è un punto nevragico della discussione e sappiamo che debba essere affrontato, così come sappiamo che c'è un problema anche dal punto di vista sanitario e che anche questo debba essere in qualche modo garantito nel momento in cui si va a fare una scelta di questo genere. Quindi noi abbiamo pensato di coinvolgere immediatamente le due regioni per far sì che tutto quanto quello che il governo sta programmando e quando il governo deciderà di far ripartire realmente le attività produttive, le regioni siano pronti a dare una risposta per garantire la sicurezza dei lavoratori.